bentornati all'ultima puntata di questo ciclo di inner talks oggi con noi chiara di paola in arte chiara lady boss in collegamento da new york ciao chiara ciao come stai benissimo tu abbastanza bene sono ancora un po scosso dagli ultimi incontri perché sto parlando un attimino a farmi un'idea generale di cosa succedendo nel mondo quindi l'idea di chiudere con te da new york dagli stati uniti dopo tutto quello che sta succedendo e le dichiarazioni tra sicuramente mi lascia curioso di quello che ci diremo e innanzitutto una domanda a bruciapelo classica e da quanti anni sei a new york cosa ti ha spinto a partire la poi racconteremo anche degli antiprogetti di cui si protagonista intanto grazie per l'ospitalità a inner talks mi fa molto piacere essere con te con voi sono arrivata new york più di otto anni fa gennaio 2012 prima di new york vivevo ad amsterdam prima ancora lice quindi ho fatto diversi passaggi negli anni sono arrivata new york un po controvoglia perché ho seguito una persona seguito il mio ex ma new york era non era assolutamente il posto che ho scelto per vivere in un futuro vicino in quegli anni piano piano iniziando a conoscere la città me ne sono innamorata e ho deciso di rimanere e aprire la mia agenzia quindi nel 2014 nasce il mio primo bambino che si chiama new york city for all è un'agenzia turistica online tour operator agenzia turistica che offre tour personalizzati e tantissimi servizi su new york e sugli stati uniti d'america quindi se una delle protagoniste della crisi economica comparto turistico è quello più colpito di tutti come come stai come stai reagendo io come tantissime altre persone non ci aspettavamo quello che stiamo vivendo in questo momento mi occupo sia di turismo che di eventi quello magari ne parliamo quando si copre l'altra parte di me ovviamente entrambe le attività sono on hold quindi non non c'è nessun tipo di movimento quasi tutte le prenotazioni servizi sono stati cancellati in realtà ricevo qualche richiesta di prenotazioni servizi futuri agosto fine anno e quant'altro ovviamente non sappiamo come sarà la situazione poi tra cinque sei sette mesi e quindi sono tutte prenotazioni provvisorie diciamo il turismo qua come tutto il mondo non non si sa quando si riprenderà verrà ripreso e io momentaneamente mi sono buttata su altro mi sono buttata sul mondo online che era un desiderio che avevo da da tanti anni quindi migliorare la presenza per un futuro lavoro remoto quindi monetizzazione online affiliazioni sto facendo diversi corsi sto studiando e mi sto proprio concentrando su quello in più sempre a livello parlando di lavoro sto cercando un po di reinventarmi e quindi ho creato dei video in italiano barra inglese per dei bambini di un asilo in provincia di bologna san giorgio di piana e quindi una volta a settimana tratto un argomento diverso e cerco di insegnare inglese a questi bambini 36 anni in modo divertente e poi faccio ripetizioni a un paio di bambini in italia gli aiuto a fare i loro compiti di inglese e aiuto anche un paio di persone americane che sono i ragazzi di mie amiche a imparare l'italiano quindi sto cercando in questi modi di tenermi attiva anche a livello lavorativo ti stai reinventando online in realtà possiamo dire ai nostri trattatori che già sei una blogger attiva sotto questo punto di vista diciamo ti sei saputa già reinventare possiamo dire bene e da cosa ti è nata l'ispirazione l'idea di appunto di mettere in piedi blog e in generale di creare parte della tua carriera su questo estro appunto che ti caratterizza bella domanda in realtà nasce tutto dall'agenzia nel senso che quando sono arrivato a new york non sapevo cosa avrei voluto fare ma sapevo che sarei voluta stare a contatto con le persone lavorare nell'ambito turistico e con l'organizzazione a me piace tantissimo organizzare e dare informazioni quando nasce l'agenzia che prende piede rapidamente perché credo ho fatto delle ricerche non c'era nessuno che offriva dei servizi personalizzati quindi forse quello è stato proprio il mio punto di forza offrire delle cose personalizzate dei servizi o dei percorsi dei tour che proprio aiutavano i clienti a creare un loro percorso spesso mi danno carta bianca questa è la cosa che a me piace di più quando cerco di capire un po la psicologia del cliente cerco di capire il desiderio il gusto è quello che ha piacere di fare e poi sta a me creare un percorso o un itinerario ad hoc data la mia presenza online le persone hanno iniziato a conoscermi e a capire un po come sono sia a livello personale sia a livello lavorativo e quindi si affidano al 100% a me in questo senso e da questo da questa necessità nasce un po il discorso del blog da tutte le domande e le richieste che poi mi venivano fatte da chiamiamoli followers audience come vuoi e dai clienti quindi nasce il blog quasi subito dopo aver aperto l'agenzia e mi butto così ad occhi chiusi su facebook e poco dopo su instagram quello che viene concretizzato in qualche anno successivo è il mio brand che appunto si chiama chiari lady boss l'ho aperto gennaio 2019 grazie al brand copro anche tutta la parte di creazione contenuti e vlog quindi sono su youtube faccio video che ho contenuti sulla città di new york anche sui viaggi e mi piace molto parlare di chicche di cose nascoste e fare vedere la città sotto un altro punto di vista non solo quello classico che poi viene raccontato spesso online e anche sulle guide gestisco due tre pagine instagram due pagine facebook appunto il blog youtube e ad oggi anche due canali tik tok quindi sono molto attiva online ti confessi confesserò che non ho ancora approcciato il mezzo non l'ho visto da fuori anche perché qualche politico non strano ogni tanto ci regala qualche risata con dei video improbabili ma non ancora personalmente approcciato il mezzo senti volevo farti una domanda ritornando alla città di new york la enorme variegatissima popolazione e anche chiaramente due amici più stretti come come pensi si sia reagito alle ultime dichiarazioni di trump che diciamo pareva in qualche modo voler risolvere il problema del covi 19 attraverso iniezioni di disinfettante igienizzante o comunque in ogni caso parlando di un tema estremamente medico e tecnico come se fosse appunto un vicino di casa incompetente avete presa per un avutato oppure qualcuno si è preoccupato veramente io e la mia cerchia stretta di persone qua new york non diamo molto peso alle sue dichiarazioni fino a che non vengono poi prese seriamente in considerazione e non apprezziamo molto il suo approccio il suo modo di di gestire questa emergenza covi 19 quello che dice il presidente spesso e volentieri non è la realtà e quindi nessuno nessuno diciamo il timore che possa tramutarsi in realtà il timore ci può essere però non le sparate molte gli ultimi nelle ultime settimane mesi ce ne sono state tante anche preoccupanti incluso il discorso dell'immigrazione che adesso ha deciso di temporaneamente bloccare il l'ingresso l'ingresso e le carte verdi per le persone attualmente non residenti in territorio americano la carta verde se posso fare una precisazione è lo step precedente alla cittadinanza questo è valido anche per chi è residente negli Stati Uniti io sono residente ma non sono cittadina la carta verde la puoi ottenere in tre modi tramite lotteria che quella che puoi giocare ogni anno gratuitamente a ottobre e i risultati escono ogni anno l'anno successivo a maggio quest'anno 5 maggio se non sbaglio o la vinci tramite matrimonio scusa no vinci o la ottieni tramite matrimonio o la ottieni tramite sponsorizzazione di un'agenzia quindi vuol dire che un'azienda ritiene che tu abbia delle qualità tali da investire del tempo e del denaro su di te o addirittura tu hai lavorato per quell'azienda per diverso tempo hai dimostrato di essere un dipendente valido e quindi loro ti sponsorizzano quindi ti fanno prendere la carta verde che è appunto lo step precedente alla cittadinanza poi non tutti quelli che prendono la carta verde necessariamente vogliono diventare cittadini americani però la carta verde dà molta più sicurezza di quello che può essere un visto anche lavorativo tu non hai ancora vinto la lotteria? io non partecipo quasi più quasi più, quindi hai partecipato? io ho partecipato per diversi anni il discorso è che quando è nata questa lotteria 30-40 anni fa ovviamente c'era molta più probabilità di vincita adesso che è una cosa molto conosciuta è difficile vincere la lotteria senti, tu in che zona di New York abiti? Astoria, Queens è un quartiere meraviglioso è un quartiere storico, tra l'altro protagonista di numerosissimi film, storie è sempre vissuto lì o già si è spostata all'interno della città? no, Manhattan non ci ho mai vissuto un po' per scelta, un po' per frenesia chiamiamola così è anche un discorso economico perché a Manhattan è difficile trovare un appartamento nella zona del cuore diciamo a un prezzo contenuto e che non sia letteralmente un buco detta proprio così un venti metri quadri inizialmente ho fatto solo un mese a Bushwick nella zona peggiore diciamo ero in zona Halsey otto anni fa non era quello che è oggi nel senso che io non potevo tornare a casa da sola in metro la sera proprio nella strada dove abitavo io dopo un mese mi sono trasferita da Astoria e da allora sono rimasta sempre qua mi sono trovata benissimo è un quartiere molto sicuro molto vivibile che ti permette tra l'altro anche di poter sviluppare da un punto di vista centrale quelli che sono i tuoi lavori la cosa che mi raccontavi prima diciamo l'altra metà di te riguarda gli eventi questa cosa mi ha fatto sorridere perché anche io sono scisso storicamente tra la parte più a fine appunto inclina gli studi che ho fatto poi l'organizzazione di eventi essendo presidente di un'associazione appunto di produzione da dieci anni e una delle cose che ho vissuto chiaramente una delle parti di me che è venuta a mancare è proprio quella legata da una parte proprio all'idea di soffrire di un concerto proprio di stare in mezzo alla gente del contatto fisico che alimenta dall'altra parte da organizzatore c'è un aspetto economico che sicuramente anche di programmazione passata e futura che viene a mancare quest'altra parte di te come hai reagito invece? mi manca tantissimo considera che la mia vita è cambiata da così a così da un giorno all'altro come la vita di tante persone io ero fuori casa ogni giorno 7-8 di mattina fino a 11 mezzanotte tra tour, eventi, appuntamenti, creazione contenuti e dall'oggi al domani mi sono ritrovata a stare 24x7 a casa quindi evitare le persone evitare i luoghi pubblici evitare il contatto con qualsiasi forma umana mi manca però in questo momento non c'è assolutamente altra soluzione anche perché fino al 15 maggio se le cose non cambiano non si può uscire non abbiamo l'obbligo di stare a casa ma siamo invitati a stare a casa quindi dal 22 marzo alle 8 di sera è passato questo decreto chiamato NYS on pause quindi tutto lo stato di New York e non solo la città è stata invitata i cittadini, i residenti sono stati invitati a rimanere dentro casa però noi abbiamo ancora la libertà di uscire per una passeggiata andare al parco e non necessitare di un documento per andare dal dottore o andare al supermercato cosa che so che in Italia c'è Sì, fino al 4 maggio fino al 4 maggio sì, al meglio dal 4 maggio ci sarà qualche piccola modifica è ancora tutto in fieri quindi in realtà si va avanti a tentoni stavo per fare una domanda classica dei ristoranti se sono ancora aperti infatti volevo farti una domanda relativamente ai ristoranti ti chiedo se sono ancora aperti molti hanno chiuso temporaneamente altri sono aperti solo per consegne a domicilio o pick up quindi se vuoi andare a prendere il tuo ordine o consegna in realtà seguendo le vicende italiane per scelta mi sono messa in isolamento da subito quindi già dal 13 marzo 14 marzo io ho deciso di rimanere dentro casa e faccio spesa ho fatto spesa in questi quasi 40 giorni solo tre volte faccio spesa per due settimane e cucino a casa cosa che prima non facevo quasi mai però ormai è diventata una necessità dato il periodo quello di cui discutevamo un po' prima si guarda un po' al passato e al futuro di quello che sarà l'intervista WAN posso immaginare tra un mesetto in Italia cosa accadrà tu invece sono molto curiosa immaginare diciamo già adesso già sai cosa probabilmente accadrà negli Stati Uniti anche nei prossimi 15-20 giorni come ti poni al riguardo? è una cosa che ti mette ansia oppure in realtà ha anche qualche aspetto positivo? in realtà non sono io di mio una persona ansiosa quindi non mi mette l'ansia anzi mi fa piacere essere tra virgolette un po' proiettata al futuro e cercare di prevenire quello che potrebbe essere una situazione anche magari spiacevole per esempio quando seguendo le vicende italiane io ho capito che era proprio una necessità un bisogno dover stare dentro casa e quindi l'ho fatto quindi in realtà non ho non ho ansia e sono curioso di sapere cosa potrebbe succedere una, due tre settimane da oggi anche perché in realtà ti stai trovando in uno diciamo degli epicentri dei focolai statunitensi chiaramente New York essendo uno dei motori d'America sotto molteplici punti di vista ma sicuramente anche dal passaggio di persone che c'è in continuazione si è trovati appunto ad una una situazione abbastanza grave quindi immagino che la tua posizione sotto questo aspetto sia di tutela personale a 360 gradi è cambiato il tuo spirito in queste settimane e te lo chiedo anche perché diciamo attraverso appunto i social in realtà questa cosa non riuscivo a percepirla quindi mi approfitto per farti questa domanda allora no però ho avuto un calo grosso l'altro ieri l'unico giorno in cui sono stata proprio down anche date le ultime notizie sull'immigrazione io come tante persone quasi che non ci sentiamo più benvenute in questo paese nel senso che l'America di cui si è sempre parlato quella dei film quella della libertà quella del sogno americano ormai è diverso tempo che sta cambiando anche purtroppo data la presidenza e però in realtà il mio spirito è sempre lo stesso cerco di essere positiva cerco di essere sempre attiva cerco di stimolare le persone a non buttarsi giù a tenersi impegnati a sfruttare questo tempo nel migliore dei modi a capire che bisogna avere pazienza bisogna trovare la pazienza e la forza di affrontare al meglio questa situazione perché non c'è assolutamente alternativa il non sentirsi benvenuta è qualcosa che è percepito diciamo dalle dichiarazioni governative oppure anche dalle persone in qualche modo comuni con le quali si è entrata in contatto con cui si è relazionata sicuramente tramite conversazioni con amici o conoscenti in primis e questo ti ha fatto anche pensare all'idea di cambiare di nuovo paese oppure non ti è non ti è balenata assolutamente forse ci ho pensato ma è proprio stata una questione di attimi nel senso che comunque New York è la mia città nel mondo in questo momento e mi ha dato tantissimo è stata ed è una scuola di vita sono cresciuta tantissimo grazie a New York cose che ho imparato qui so che non le avrei imparate in nessun'altra parte del mondo l'energia che c'è qua non si trova altrove il mondo è bello perché è tutto diverso io ho veggiato abbastanza ho toccato più di 36 paesi però questo era per dire che comunque sono entrata a contatto con tante culture tante persone diverse tanti modi di vivere diversi e veramente l'energia che trovi a New York è qualcosa di speciale unico che tira fuori quasi sempre il meglio di te e tante cose che non avresti mai non ti saresti mai aspettato un aspetto negativo invece? secondo me la mancanza di umanità spesso e volentieri nel senso che ognuno è proprio focalizzato sul sul proprio obiettivo molto spesso con il paraocchi diciamo e i rapporti umani sono un po' più frivoli si perde il calore no? dell'amicizia o del contatto che magari di cui siamo abituati in Italia partendo da questo presupposto ti avrebbe fatto piacere diciamo fingendo diciamo di poterti teletrasportare passare la quarantena dai tuoi io dunque in generale in Italia ci ho pensato diverse volte e ho risposto anche a un'altra intervista a questa domanda che sì sarebbe stato un ottimo momento per passare più tempo con i miei e a casa con questo auspicio un po' nostalgico ne approfitto per salutare i nostri spettatori che hanno seguito queste puntate di Inner Talk sul formato un po' tipico con estremo interesse ringrazio di risa d'autore il portale di consulenza web e su Bocala Sonora l'associazione di produzione musicale entrambi ci hanno dato un grosso sostegno in termini di distribuzione e mi andava diciamo di lasciare l'ultimo saluto alla nostra ospite new yorkese Chiara Di Paola H che ci saluterà probabilmente con una citazione delle sue e immagino che anche questa volta bucherà lo schermo intanto ringrazio te è stato veramente un piacere e sicuramente saluto tutta l'Italia parenti amici audience ma anche tutti i clienti e tutte le persone che mi mandano sempre un sacco di energie positive grazie a voi poi vado avanti e vi voglio lasciare con un pensiero una frase importante di Darwin che dice che non è la specie più forte quella a vincere a sopravvivere e non è neanche quella più intelligente ma è quella che riesce ad adattarsi al cambiamento quindi sfruttate al meglio il vostro tempo e cercate sempre di cogliere l'attimo vi mando un sacco di energia positiva e un enorme in bocca al lupo da New York grazie Chiara ciao grazie mille a te ciao ciao